Cari amati fratelli e sorelle nel Signore, faccio questa testimonianza per la gloria di Dio. Come voi sapete ho conosciuto il fratello Giuseppino tramite una cara sorella. Siccome lui evangelizza, ha trovato davanti a un supermarket una persona senza tetto che chiedeva le monetine. Ed era molto triste e sofferente. Allora il fratello ha sentito da parte del Signore di andare da lui. Le ha dato qualcosa da mangiare eccetera. E ha iniziato a parlare con lui in italiano, inglese, però lui non capiva niente poverino. E poi Giuseppino capì alla fine che era una persona rumena. Allora, conoscendo me, mi chiese sullo zappo di fargli un messaggio vocale nella lingua rumena. Così che poteva farlo ascoltare a lui e che se il fratello poteva pregare per lui. Allora io feci un vocale parlandogli di Gesù, di suo amore, salvezza, vita eterna, su come pregare. E chiese se il fratello poteva pregare per lui per la salvezza e per la guarigione perché lui aveva le stampelle e si vedevano le dita di tutte e due piedi amputate. Fece questo vocale. Il fratello andò di nuovo lì, ma non lo trovò. Allora andò di nuovo e lo trovò. Poi fece ascoltare l'audio in rumeno così che lui capisse cosa intendeva il fratello fare però il senza tetto. Lui era distratto chiedendo le monetine alla gente e c'era molta confusione lì davanti al supermarket. E il mio vocale era troppo lungo, di 19 o 20 minuti. Anche perché io sentivo, e come mi ha raccontato anche il fratello, perché lui lo vedeva, lo sta vedendo, che questa persona soffriva tanto e aveva bisogno anche di incoraggiamento nel Signore. Allora fece di nuovo un audio più corto e il fratello pensava nel suo cuore di dargli i soldi di carta, 5 o 10 euro, per averlo incontrato il giorno dopo. Poi ho confermato anche io di fare così. Ma mattina dopo, dice, il fratello ha fatto un favore a suo padre e, per ringraziarlo, le ha lasciato 10 euro. E lui ha pensato, il Signore vuole che le do 10 euro a Sandro. Così si chiama la persona senza tetto. Non perché non aveva soldi, anche perché lui quando vede Sandro gli dà dei spiccioli e qualcosa da mangiare. Però quella volta era come se il Signore le ha procurato quelli 10 euro per dare a Sandro. Per poterlo farlo allontanare da dove era così, lui poteva concentrarsi su Dio e ascoltare finalmente questo messaggio vocale nella lingua romena con molta attenzione. Allora incontrò Sandro, gli diede questi soldini e lo portò su una banchina dove lì tramite i segni li fece ascoltare il messaggio audio che io feci. E mentre lui ascoltava, piangeva. La parola di Dio gli aveva toccato il cuore. Nel messaggio vocale le avevo chiesto se il fratello Giuseppino che era davanti a lui poteva pregare per lui, per la sua salvezza. E lui tramite i segni gli ha detto di sì. Allora fratello Giuseppino ha pregato per lui. Ero anche io al telefono. Fratello ha imposto le mani su una gamba e abbiamo pregato per la guarigione, lui in italiano e io in rumeno. E Sandro, dopo la preghiera, ha detto che si sente meglio e che ha sentito una scosa che ha attraversato la sua gamba. Si è alzato in piedi e camminava bene ed era molto felice che non aveva i dolori ed era sereno rispetto a prima. In tutto questo tempo ho dovuto tradurre quello che il fratello diceva e chiedeva e viceversa. Poi il fratello lo trovò di nuovo e questa persona, Sandro, gli fece dei segni che ha bisogno per altra gamba di stare meglio. Come l'altra che Gesù già l'aveva guarita. Allora ci siamo messi d'accordo io con il fratello di parlare di nuovo con Sandro per tradurre la preghiera e le parole di amore da parte di Gesù e nostra, di aprire il cuore. Allora erano anche suoi figli intorno, un po' spaventati, sicuramente si chiedevano chi era quell'uomo, cioè fratello Giuseppino, vicino al loro padre. Allora ho parlato anch'io con loro tramite telefono dicendogli chi è fratello, chi siamo e ho chiesto ai figli se volevano pregare per ricevere Gesù e loro hanno detto di sì. Allora fratello Giuseppino ha pregato ed io traducevo e è stato bellissimo. Allora anche con altra gamba stava molto meglio. A volte sì, uno ci può chiedere una monetina e noi non sappiamo che lì in realtà c'è un'opera che il Signore vuole fare a quella persona. Gloria a Dio, grazie Gesù, alleluia. La verità è che dobbiamo stare sempre in guardia, cioè vedendo le persone intorno a noi, perché veramente hanno bisogno di luce, della verità, di Gesù. Ovunque andiamo a evangelizzare e vedere quelle persone come li vede Gesù. Per noi è stata una bellissima esperienza. Prego che questa testimonianza sia un incoraggiamento e un risveglio per molti. Anche per me non sono esclusa. Sento nel mio cuore di dare questo versetto. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Matteo 5,14 Cioè, che noi siamo come delle candele che Gesù accende affinché anche gli altri possano vedere la luce di Cristo, il suo amore, la sua verità, e che non possiamo nascondere questa luce che è Dio. Amen. Dio vi benedica grandemente, vi mando tanto tanto amore a tutti. Dio vi benedica grandemente, vi mando tanto amore a tutti.